Si sono riunite questa mattina le commissioni urbanistiche speciali per il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. Il 18 marzo è stata trasmessa dalla coordinatrice del dibattito pubblico Yolanda Romano la relazione sugli studi condotti dal gruppo di progetto per l'8.1 e l'8.2 contenente le modifiche apportate sulla base delle sollecitazioni ricevute del territorio e rielaborate dalla commissione speciale sotto il nome di Variante dei Cittadini che prevede la realizzazione del raddoppio del tracciato in zona interporto. Lo studio è il risultato di valutazioni dei tecnici comunali e del presidente del Consiglio Luigi Febbo. Il correttivo proposto dal Sineco Ferrara e dai sindaci dei territori interessati hanno convinto i tecnici del dibattimento pubblico. Se si concretizzerà risolverà molti dei problemi derivanti dall'impatto dell'opera. Noi stiamo proponendo una variante che esternalizza il passaggio più possibile, quindi la porta più in campo aperto, quindi in zone meno antropizzate. Stiamo cercando anche di salvaguardare quei quartieri che si trovano in una posizione che può sembrare vicino al passaggio della variante. Quindi stiamo ragionando con Italfair e con RFI per allontanare più possibile il treno dalle zone antropizzate, anche quelle che sono secondarie, ma che per noi hanno un'importanza uguale a quelle maggiormente antropizzate. Quali sono i prossimi step di questo ITAR? Una riunione che la Commissione ha voluto convocare proprio in mezzo ai cittadini, quindi verrà fatta una riunione il 31 presso Brecciarola nella quale noi discuteremo con tutti i cittadini. Presentato ai comitati di Brecciarola e di Contrada Molino, sempre zona Brecciarola, il progetto di variante che non vede per ora d'accordo questi ultimi. Ci opponiamo perché viene sopra la nostra contrada e praticamente va ad impattare con le opere già realizzate in passato, negli ultimi anni, tra l'elettrodotto, gasdotto. Attualmente sono in opera anche le vasche e di conseguenza adesso arriverebbe anche questa ferrovia. Conoscendo noi tutto il nostro territorio, quello che abbiamo, ci rendiamo conto che questo andrà a impattare veramente ancora di più con l'attuale situazione. E ad oggi se non si trova una soluzione alternativa, perlomeno non andrà via, non si sposterà dalla nostra contrada, noi siamo costretti a dire no.